L'inclusione è uno degli obiettivi del Piano Nazionale Integrazione che è stato approvato nel 2022 ed è la base del programma nazionale FAMI 2021-27. Nell'ambito del programma abbiamo questo importante progetto che è il GINET 2 che si conclude a marzo ma che vedrà certamente nel 2024 la ripartenza con il coinvolgimento di tutte le città metropolitane. Si tratta di un sistema multilivello, multistituzionale che è destinato a raccogliere tutte quelle che sono le vulnerabilità delle città, delle grandi città connesse al fenomeno migratorio. Quindi inclusione vuol dire azioni, azioni con i fondi europei addizionali che sono quindi di supporto alle azioni delle città.